Chapter 10 Lesson 3 Occorre mantenere pulito il filtro dell'aria per evitare che esso si intasi Occorre sicuramente mantenere pulito il filtro dell'aria Il filtro dell'aria per evitare che esso si intasi che esistono il filtro dell'aria Bisogna periodicamente controllare il filtro dell'aria del motore Al fine di garantire una corretta combustione Bisogna svolto periodicamente controllare e controllare il filtro dell'aria aveva il filtro del motore engine che al fine di garantire che scambacca una corretta combustione e che ha la combustione di diesel o che ha la combinazione del motore. Bisogna periodicamente controllare il filtro dell'aria del motore e garantire il corretto raffreddamento del motore. Bisogna periodicamente controllare il filtro dell'aria del motore al fine di garantire il corretto raffreddamento del motore. Bisogna periodicamente controllare il filtro dell'olio per evitare che aumenti la temperatura dell'olio. Bisogna periodicamente controllare il filtro dell'olio. Il filtro dell'olio è il filtro dell'olio. Il filtro dell'olio è il filtro dell'olio è il filtro che a via il filtro dell'olio è il filtro dell'olio è il filtro del motore, engine, provo, con questione, recuperate il rigore il filtro dell'olio è il quindi quando hava e diesel non è vero ovviamente la domanda è vero che non è vero e per la domanda che è vero la domanda quindi questo è vero il filtro del l'aria il filtro del l'aria il motore il motore il misione di fumo nero l'oscarico il filtro del filtro il filtro del l'aria il motore il filtro del filtro delMissioso il filtro del filtro del filtro cello quello che fare dove l'aria però e qui la domanda emerge il felice hケ requesting se inni oga diesel acce trikhe se già lega nì e bairo fumo nero giocala 2 embo negli gà l'intasamento del filtro dell'area del motore provoca la riduzione dell'efficienza del motore l'intasamento giù è blockage del filtro dell'area giù hava che filtro del motore in generale provoca vaja banta è la riduzione cam dell'efficienza cardeghi del motore in generale la riduzione del motore in generale provoca la riduzione del filtro dell'area del motore in generale provoca vaja banta è la inefficienza della freina tura e la riduzione del motore in generale provoca la riduzione del filtro dell'area del motore provoca l'ingresso di sostanza estranei nella camera di combustione l'intasamento blockage del filtro del arrea hava valica del motore in generale provoca vaja banta è l'ingresso in generale ti sono così si spazz 잘못i estranei 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 giù baca di combustione camera di combustione giù hampare indammare indammare ossegato diretor io intagare ho l'intizzamento del filtro del aria del motore provoca l'emissione di fumo bianco al oscarico l'intizzamento del filtro del aria del motore del fuumo bianco al oscarico di fumo bianco di fumo bianco di fumo bianco di fumo bianco di fumo ha del fumo bianco di fumo bianco di fumo nero au goza ora sì il filtro del carbrante intercetta la impuretata continuitinal carbrante Il filtro del carburante, il filtro del carburante può comportare un irregolare flusso di carburante alla pompa. Il filtro del carburante è il filtro del carburante, il filtro del carburante è il filtro del carburante. Il filtro del carburante comporta perdita di efficienza del motore. Il filtro del carburante comporta perdita di efficienza del motore. Il filtro del carburante. comporta l'emissione di fumo nero allo scarico l'intezamento block del filtro filter del carburante carburante che comporta l'emissione di fumo nero allo scarico il fumo nero è che il fumo nero è che il black è che il fumo di scarico è che il fumo è falso è perché quando il filtro è il filtro è un filtro che il fumo nella l'intesamento del filtro carburante comporta l'insufficiente lubrificazione dei cilindri del motore l'intesamento del filtro del carburante blocchi del filtro della carburante che comporta l'insufficiente lubrificazione dei cilindri e dei cilindri dei cilindri slender del motore la il tessere il filtro carburante il filtro carurante a il filtro carurante il filtro carurante comporta 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 il filtro carurante maggiore usura dei iniettori. Un anomalo aumento delle emissioni inquinanti può dipendere da iniettori mal regolati o danneggiati. Un anomalo aumento. E se per una delle emissioni inquinanti, un formalo. Un che ho detto è che il nuovo aumento delle emissioni inquinanti che il nuovo aumento può dipendere dal filtro dell'aria come un aumento delle emissioni inquinanti in cui non ti aluda carnavali gandà carnavali po dipendere dipendere dal filtro dell'aria air filter via mara e quindi che è più amara true ho gai perché ovviamente in case in case di diesel e rinchi in che appassi mi rapporto aga che ne ho ghi ratio un'anomale aumento delle emissioni inquinanti può dipendere dalla pompa di iniezione non correttamente tarata un'anomale aumenta delle emissioni inquinanti può dipendere dalla pompa di iniezione injection pump diesel pump carter high pressure non correttamente tarata tarata di iniezione di inquinanti può dipendere dalla elementi frenati un'anomale aumenta delle emissioni inquinanti può dipendere dipendere degli elementi frenati usurati di breaking pads, ganache, pastiglie, ovviamente ovviamente non è falso un'anomale aumento delle emissioni inquinanti può dipendere dall'usura del cambio di velocità di iniezione di fumo bianco altamente inquinanti all'usura del cambio di velocità di iniezione di iniezione di inquinanti può dipendere dal'usura del pneumatico targa di iniezione di iniezione di fumo bianco altamente inquinanti altro che si porpetenta iniezione di iniezione di iniezione di nell'usura del habit 但是 lo scarico poi dipendere dalla fascia di tenuta usurati che avevo emnaires in il buildingاطio della fascia elastiche abbiamo daddy danni appara chase un'anomale aumenta queste cose che ora qui 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 ci il quattro il qui 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 e qui il il che fai Fumo nero altamente inquinato e allo scarico può dipendere dal filtro dell'aria intesato. Fumo nero altamente inquinato e può dipendere dal filtro dell'aria. Fumo nero, cioè filtro, se è injecto, svera, che è blocco. L'emissione di fumo bianco altamente inquinato e allo scarico può dipendere dalla ovulizzazione del cilindro. L'emissione di fumo bianco altamente inquinato e allo scarico può dipendere dalla ovulizzazione del cilindro. L'emissione di fumo e allo scarico può dipendere dalla ovulizzazione del cilindro. L'emissione di fumo e allo scarico può dipendere dalla ovulizzazione del cilindro. L'emissione di fumo e altamente inquinato e allo scarico può dipendere dalla grassi trying da ovulizzazione del cilindro. Fraggiata di fumo e allo scarico può dipendere dalla equi grattaccio il nostro corso può dipendere dal filtro dell'olio intasato il filtro olio e il filtro è intasato e se fumo nero negli occhi è falso il filtro è intasato da andare a spiaggia e non è che il filtro olio e il filtro è intasato l'emissione di fumo bianco altamente inquinato e allo scarico può dipendere da presenza di olio combustione o olio combustione le emissione di fumo bianco white dhuwan altamente inquinato che già da nascondi è alo scarico giù nincolta è di un po' dipendere dipendere da presenza di olio combusto dipendere sapere di olio combusto dipendere da presenza di olio combusto di olio combusto ma sc breaksdata di olio combusto questa stelle lo pulizare da presenza di fumo bianco off of the ocean ollio combustione su cupido dipendere da macina f ágile grandico giù era aperto asciato di olio combusto di olio combusto di olio combusto, delle fasi di olio combustione di olio combusto piglio piaston che girth fasi che di che ring che ci sono qui ci sono il fatto di fuomo e bianco faccia di fuomo e bianco fafalsi condizioni le misioni di fuomo e bianco altamente inquinanti al l'oskari quello che è molto dipendere dal filtro alia intenzia il fuomo e bianco che è il fuomo e bianco altamente non è una fuomo e nero che è tutto il fuomo e bianco è altamente inquinanti al l'oskari . L'emissione di fumo bianco altamente inquinante allo scarico può dipendere dalla cattiva regolazione del variatore di anticipo. L'emissione di fumo bianco è altamente inquinante allo scarico, può dipendere dalla cattiva regolazione del variatore di anticipo. La cattiva regolazione del variatore di anticipo. La cattiva regolazione del variatore di anticipo. La cattiva regolazione del variatore di fumo bianco che face a bene in questo modo, non cattiva regolazione del variatore di fumo bianco che face a bene in questo modo. Fumo Nero Nego Terno che Fumo Vianco Nego Terno Tiki Tito ebbio ha mara false o gai or anti tipo j'ai avuto word a vò false o hai 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 Grazie. 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 Grazie.